Siamo qui da un anno e mezzo. Sono molto orgogliosa di essere in questa struttura perché l'ospedale di Mantova e le strutture sanitarie di Mantova sono riconosciute anche da altre regioni come di grande qualità. Il poter inaugurare questo nuovo centro prelievi devo dire che mi rende particolarmente orgogliosa. L'attività è stata molto forte da parte anche dell'ingegneria, dell'ufficio tecnico e della informatizzazione di questa struttura. Come diceva prima il direttore generale, è una struttura nuova e pulita. Quindi nell'era Covid devo dire che è un momento molto importante. Ci ha permesso di introdurre le prenotazioni nei centri prelievi che secondo me oltre che a distanziare e a regolamentare diciamo l'afflusso in un periodo Covid, questo sistema sarà utile anche successivamente per il cittadino. Cambierà qualche fascia oraria perché noi dovremo decentrarci nella struttura del laboratorio dove eseguiamo le analisi al centro prelievi per cui il medico sarà presente in una fascia oraria specifica per esami di microbiologia specialistici e anche di esami del sangue di un particolare rilievo dalle 9.30 alle 10.30. Il resto verrà tutto gestito dal personale infermieristico che sono veramente delle persone di grande responsabilità e grande umanità, soprattutto di grande umanità, perché quello che ci vuole adesso è proprio questa capacità di relazionare con gli altri, anche se ci sono le distanze obbligatorie. Questo è molto importante e le infermiere che abbiamo qua devo dire che sono all'altezza di questo compito. Grazie a tutti.